registrazione video full hd siamo i redmi note 8 t effettuare uno zoom mi sembra buona la qualità del video anche se sinceramente con il sole che ho negli occhi vi dico che faccio davvero fatica a guardare il display lo zoom 6 per anche in full hd come visto in 4k è abbastanza rumoroso c'è abbastanza rumore digitale quindi la qualità non è proprio eccellente però diciamo che per un dispositivo da 164 euro non è niente male forse la stabilizzazione ovviamente va a perdere un po con lo zoom a 6x registrazione video full hd siamo i redmi note 8 t grazie 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 grazie